Ciao a tutti, oggi prepareremo la bavarese al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa più 10 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono panna fresca per dolci, zucchero, latte, tuorli, colla di pesce, fecola di patate, crema di pistacchio e granella di pistacchi per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere la panna che abbiamo messo per 45 minuti in congelatore, e la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, mettere da parte in una ciotola capiente. senza lavare il boccale, intanto riporre in frigo la panna, mettere nel boccale il latte, lo zucchero, la crema di pistacchi, i tuorli e la fecola di patate. Ed azionare il bimbi per 5 minuti, 80 gradi, velocità 4. Mettere la colla di pesce ben strizzata. e azionare il bimbi per 20 secondi, a velocità 4. trasferire in una ciotola capiente e fare intiepidire mescolando ogni tanto. Trascorso il tempo, mettere la panna un po' per volta nel composto al pistacchio ed amalgamare bene. trasferire in uno stampo in silicone o in stampini monoporzioni in silicone. riporre in frigo per almeno 10 ore. trascorso il tempo, mettere la bavarese in congelatore per un'ora per facilitare la fuorescita dallo stampo. bavarese al pistacchio grazie e alla prossima ricetta axis 3 e n Grazie a tutti.